Obiettivo raggiunto con sette partite d'anticipo. La squadra pesarese dell'Ital Service Loreto Basket è tra le prime sei della Serie C Silver e ha guadagnato il pass per la prossima e nuova Serie C unica. La vittoria di sabato nel derby di Urbania per 68-83 ha regalato la fuga in vetta della classifica, ma anche l'aritmetica per quanto riguarda il balzo di categoria. Un grande risultato frutto di un percorso da schiacciasassi fermato da una sola sconfitta in stagione. Percorso che ora insegue la ciliegina sulla torta della vittoria del campionato col primo posto da blindare già nell'appuntamento casalingo di sabato 25 marzo con Ascoli. Intanto però può esultare coach Stefano Foglietti, allenatore di una squadra ai limiti della perfezione, così come esulta la società del presidente Rudy Baldelli e del main sponsor Lorenzo Pizza a pochi mesi dalla costruzione di questa fortunata partnership. Siamo saliti subito come primi in classifica, quindi il prossimo anno giocheremo in Serie C e poi vediamo se c'è qualche possibilità anche di fare un ulteriore salto di livello. Però questo perché comunque alla mia famiglia oltre che allo sport piace anche il sociale, considera che noi nel calcio 5 abbiamo 300 ragazzini, che comunque 300 bambini, che comunque vengono a giocare a calcio 5, che comunque vengono vestiti dall'Ital Service, che vanno in giro con le nostre tute. E nel Loreto ci sono già 30 bambini, 30 ragazzi che sono allenati benissimo da Andrea Rinolfi e quindi anche lì diciamo che il Loreto Basket sta diventando anche lì da sport, poi passa anche al sociale. E a noi questo è una grossa passione per noi, cioè ci sono tanti imprenditori che hanno tanti hobby. A me molte volte anche i miei clienti, i miei fornitori, i miei amici me lo dicono, ma chi te lo fa fare? Cioè perché investi tanto nello sport? E la risposta è perché lo sport poi diventa anche sociale, perché poi quando questi 300 bambini del calcio 5, questi 30 ragazzi del basket, invece di andare in giro al pomeriggio, vengono a giocare da noi, quello diventa sociale.